Perché? Palermo non ti vuole più presidente, te ne devi andare No, no, non fa ridi, te ne devi andare, basta No, sei tu, però basta, la gente è stanca È stanca di tutto quello che ti ha compilato Io sono stanco di Palermo Molto stanco Presidente Iachini rimane allenatore del Palermo? No, è da qui Cosa le ha detto? Cosa le ha detto a Iachini? Cosa ha detto lei a... Il silenzio di questa città Il silenzio di questa città Stiamo a parlare bene, ecco qual è il problema Che la città è in silenzio Perché se con te stavano tutti No, no, ce l'andiamo anche in Serie C A questo punto ce l'andiamo anche in Serie C Non ci interessa trovare un altro presidente in Serie A Voglio in Serie C ma non in Serie A così Va bene Grazie